Il Coraggio della Pace è il filo conduttore della festa provinciale e regionale delle Acli nell'Aretino che si svolgerà a Ponticino dall'11 al 14 di luglio. Certo, tra l'altro è anche il tema del congresso che si svolgerà in ottobre, quindi è un tema centrale che poi abbraccia anche le due tematiche che saranno dibattute nei due giorni, il 12 e il 13, nell'ambito della festa. Il primo tema è quello sui diritti umani, lo Stato e i diritti umani a livello internazionale. Abbiamo visione di quello che sta succedendo ovunque. L'altro tema è appunto il percorso della nostra democrazia. Tra i momenti maggiormente di rilievo, venerdì 12 luglio, è prevista la presenza dell'europarlamentare Marco Tarquinio. Il giorno successivo, invece, alle 18, sabato 13 luglio, verrà presentato il libro da Camaldoli a Trieste, Cattolici e Democrazia, per continuare il cammino di Ernesto Preziosi. Come vorreste che la cittadinanza vivesse queste giornate? Secondo me è importante che partecipino, perché la partecipazione è alla base del funzionamento di tutta una società, e anche del mondo associativo, anche della politica e della stessa democrazia di cui parliamo. è un elemento essenziale. Senza la partecipazione tutto diventa pericoloso. Quindi sia gli aspetti sociali, le strutture diventano sempre più autoreferenziali, e il rischio è che poi non ci sia quella osmosi con i cittadini, di idee, di progetti, eccetera, di condivisione, che è importantissimo per i percorsi democratici. È un momento di aggregazione, di socialità, ecco, quello che in questi periodi, in questi momenti che avevamo perso negli anni passati, torniamo ad avere con continuità ed è questa la cosa più importante. Ci saranno eventi sia culturali che sociali, ma anche momenti di intrattenimento musicale e anche appunto gastronomici, perché c'è anche l'aspetto gastronomico che da anni ormai ci contraddistingue. Un aspetto che immagino riuscite a portare avanti grazie all'impegno di tanti volontari. Certamente sì, perché senza l'impegno e la continuità durante anche tutto l'anno di tante persone, di volontari che sia dai ragazzi che dalle persone più adulte e anche alle persone anziane, perché compongono il gruppo storico del circolo di Ponticino, non sarebbe possibile organizzare una festa in questo modo e di queste proporzioni. Anche se, ripeto, ormai è colladata, ormai è tutto quanto, però l'impegno è tanto.